Dear sisters and brothers, I would like to thank you all for your presence, for your prayer and especially for your beautiful singing. All choirs, all responsibles and most especially dear Bernard, thanks a lot. Molto grazie amici, tutti voi che avete pregato e cantati, grazie e un grand merci di tutto cuore a voi tutti. C'è saint Augustin che diceva in suo latino così semplice, qui cantat bis orat. Abbiamo più di una ora qui chanterà. Abbiamo più di due ore. Quindi un grand merci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.